Hello everybody! Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per mostrarvi 5 cose che mi piace fare quando ho un po' di tempo da dedicare a me stessa. La prima cosa che non posso non menzionare e che adoro fare è stare sul divano a guardare Netflix per ore intere. Netflix è una delle mie cose preferite in assoluto. Mi sono avvicinata tantissimo a tantissimi generi diversi di serie tv. Downton Abbey è al momento la mia serie tv preferita perché hanno finalmente messo la quinta stagione e io adoro. Colgo l'occasione per dirvi che ho provato finalmente Fit Tea, lo volevo provare da un sacco di tempo, sarò sincera. Ed è un tè detox. Sostanzialmente quello che si fa è riempire il filtro con il tè della bustina. Inserirlo nel termos di vetro. Io preferisco mettere l'acqua una volta messo già il filtro, lasciarlo per 5 minuti e poi il tè detox è pronto. È buonissimo davvero. Ha un sapore che mi piace moltissimo, dà un sacco di energie e mi piace soprattutto berlo come sempre quando bevo il tè mentre leggo un libro. Un'altra cosa che adoro fare per rilassarmi un po' è suonare il pianoforte e lo faccio solo quando non c'è nessuno in casa perché è proprio una cosa che faccio solo per me. Una cosa banale ma che faccio davvero davvero sempre ogni volta che ho qualche oretta da passare così facendo le cose che mi piacciono è andare su youtube e guardare video completamente a caso. In questo momento sono pazza, follemente innamorata di Liza Koshy e se non la conoscete andatela a vedere perché io la amo, mi fa troppo ridere. È davvero esilarante ragazzi, cioè è troppo simpatica. E ovviamente una cosa che adoro fare quando ho del tempo libero è preparare la mia camera, preparare il set per fare un video, quindi accendere le candele, mettere tutto in ordine e quindi girare un video per voi. Il pericolo di accendere le candele, non fatelo mai a casa da soli. Ciao a tutti! Bene, questo era il video di oggi dove vi ho mostrato 5 cose che faccio per me stessa quando ho del tempo da dedicarmi. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piacciono video di questo genere con un po' di scenette, un po' di cose del genere, ricordatevi di farmelo sapere con un gran pollice in su. E niente, in realtà c'è questa luminosità orribile perché il tempo fuori fa schifo, è arrivata la nebbia. So che potrete perdonarmi per questa illuminazione un po'. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!